buongiorno benvenuti in questo nuovo video sempre della nostra modellazione della mocca bialetti allora siamo qui con il secondo video per quanto riguarda il nostro il nostro manico l'altra volta abbiamo modellato il manico con il plugin t-spline che quindi era questo qui eccolo qua perfetto oggi invece andiamo utilizzare solamente la strumentazione di rhino perché non avesse appunto il plugin così vediamo un attimino come fare diciamo che non è una cosa difficilissima però almeno gli diamo un'occhiata allora andiamo nella lista frontale andiamo nel né nei livelli che mettiamo qui in primo piano come manico lo spegniamo momentaneamente e attiviamo invece i disini tecnici a quelli qua e andiamo a partire subito con la modellazione del manico in t-spline io andrei a prendere tranquillamente la linea io andrò a prendere questa qui la linea e basta per ora con attivo solamente lo snap sotto qua fine ok e partiamo con questo shift che andiamo perfettamente in verticale questo modo qua poi mi snappo che vado così mi stacco poi da qua a qua facciamo tutte le linee diciamo quelle quelle perfettamente dritte ok non dove c'è la curva ecco dove finisce la curva dove inizia la curva non ci fermiamo anche in questo modo qua poi di nuovo da qua a qua perfetto poi per richiamare il comando l'ultimo comando destro del mouse e ci agganciamo qui ok ci agganciamo destro del mouse qui perfetto poi qui e andiamo a finire qua più o meno benissimo poi da quest'altra parte qui finiamo qua e poi l'ultimo ci agganciamo e facciamo l'ultimo pezzettino in questo modo ok facciamo tutti diciamo dei tratti per andare a chiuderli perfettamente tondi andiamo utilizzare questa questo strumento qua ok questo qui che si chiama raccordo blend arco lo clicchiamo ci avviciniamo un attimino e selezioniamo 12 vedete che lui mi fa direttamente raccordo gli do l'ok col destro del mouse di nuovo destro del mouse 12 ecco qui magari prendiamo e possiamo andare a posizionarlo magari come vogliamo noi perfetto poi di nuovo destro del mouse uno e 12 direi che va benissimo che destro del mouse 12 ok qui l'abbiamo fatto sì perfetto andiamo qui facciamo gli ultimi destro del mouse uno e 12 direi perfetto destra mano uno e 12 non ci abbiamo nemmeno preoccupare noi di farle curve perfettamente perché le fa direttamente ragno poi partendo sinistro andando verso il destro selezioniamo tutte le nostre curve e le uniamo andiamo nella vista superiore lo portiamo qui così ok e poi facciamo un estrudi quindi estrudi ok estro di curva eccolo qua e andiamo degli solido sì ovviamente e andiamo a estrudere fino in questo modo qua ok poi io direi di fare una cosa prima di andare a smussare perché adesso dobbiamo andare a smussare tutto il banco perché così non va bene fare una cosa primo selezioniamo questo andiamo qui dove c'è la lampadina spenta e clicchiamo su inversione nasconde oggetti dimmo che teniamo solamente il nostro il nostro manico basta e poi andiamo a strappolare velocemente e strappare un bordo da qua questo bordo qui tanto per dire lo teniamo selezionato andiamo su analizza lunghezza e andiamo a leggere la lunghezza che 9.8 ok 9.8 vuol dire che io andando a smussare posso utilizzare la metà di 9.8 che 4,5 facciamo 4,5 dai ok perfetto allora questa curva qui non mi serve più andiamo eliminarla e mentre qui andiamo smussare di 0.3 0.4 al massimo quindi per smussare e qui sopra invece i standard andiamo a selezionare strumenti solidi clicchiamo su raccordo reggio variabile diamo subito un raggio di questi qui più fini che 0.4 abbiamo detto 0.4 invio e selezioniamo subito partendo da sinistra questi ecco seleziono un bordo che non mi interessa control e lo clicco che lo elimino il tolgo dalla selezione e anche da questa parte faccio la stessa cosa ok perfetto adesso dobbiamo fare gli altri smussi che abbiamo detto che era 4.5 giusto ecco prima di andare a del 4.5 che abbiamo qua sopra nella riga di comando raggio successivo gli stiamo 4.5 invio e poi selezioniamo tutto il manico e lui ci prenderà tutto il resto vedete che lui ci identifica come bordi questi 0.4 mentre tutto il resto 4.5 teoricamente dovrebbe andare bene facciamo un ok invio e vediamo cosa succede due invii e vediamo cosa succede eccolo qua perfetto ok benissimo e io direi che potrebbe andare anche quasi bene nonostante mari qua forse abbiamo smussato un po tanto però i manci possono essere di diverso tipo ecco se reputate che abbia smussato troppo qui che mare fa troppo il tondo dove dovrebbe essere un pochino più faccia un po almeno di 4.5 facciamo contro z e rifacciamo ok quindi facciamo smussa invece 4.5 facciamo 3 ok invio quindi selezion tutto intanto intanto e poi col contro tolgo i bordi che dovranno essere 0.4 ok contro 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 e poi facciamo raggio successivo 0.3 facciamo stavolta invio e vado a selezionare quello che manca a livello di eccolo qua ok poi invio invio perfetto ok io direi di tenerlo così poi ripeto possiamo decidere di fare in tantissimi altri modi invece di fare tre possiamo fare due di noi che teniamo questa parte magari più piatta rispetto prima questa è una scelta che dobbiamo fare noi comunque riprendiamoci il nostro manico e ti spline ok selezioniamo quello che abbiamo appena fatto e lo mettiamo laterale dino che andiamo a vedere la differenza tra l'uno e l'altro andiamo in prospettica e eccolo qua questo diciamo la differenza tra i due manici ok facciamo una cosa questo anche questo lo metto nel livello manico cambio oggetti livello ok perfetto ok e qui vediamo un po la differenza tra i due manici vedete ok questo qui diciamo è un po più smussato più morbido e questo qui invece leggermente più rigido ok non stante abbiamo fatto diciamo lo smusso gli smussi eccetera si presenta un pochino più rigido perché ovviamente non stiamo utilizzando la tecnologie di spline però sia l'uno che l'altro potrebbero essere le due manici che vanno benissimo tranquillamente io direi ok quindi spero che sia stato un video utile per qualcuno in caso abbiate le domande fatemi tranquillamente le domande scrivetemi pure se vi piace il canale video un bel like iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video per completare la nostra mocca bieletti ciao a tutti buongiornata l'allorovate ciao 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 ciao